Buongiorno amore Ciao Tanti auguri Vieni qua subito Ciao Cos'è? Apri Apri lo tuo amore Per il tuo regalo Perché non ti apri? Apri lo tu Devi strappare la carta Qua guarda qua in mezzo Qua guarda qua in mezzo Qua guarda qua ci si chiama Cos'è? Cos'è? Oddio Sì Qua guarda qua in mezzo Qua guarda qua in mezzo S'è ancora questa qua? Spergi te aiuto Papa Cos'è? aiutalo aprilo cos'è? è l'occhio? si ma io ti ho detto ma che l'ho portato? ma che l'ho portato? e ti l'hai portato il curriere amore te l'abbiamo comprato noi per il suo compleanno è bello amore mio ma aspetta aspetta è bello Rocky ma che c'è acqua? e dopo lo togliamo secondo me come Alessandro è tanto un bravo bambino c'è un altro regalo devi aprire scopri tu cosa c'è apri dai veloce secondo me ti piace anche quello lì come ti fa aprire? ahhh ah qua tira qua eh già l'ho detto cosa? chi è? chi è quello lì? chi è quello lì? ma ti apre? si amore si apre ma chi è? chi è? chi è roma eh? ma non ti piace? ma non ti apre? adesso ti apre papà amore la giravolta la giravolta la giravolta fai ma ti muovi a fare collezione che andiamo a vestirci no come no? tanti auguri amore mio ma che ha portato giuro chi è che ti ha portato giuro? te l'hanno comprato la mamma e papà amore per il tuo compleanno e io ho un piccolo poi ti prendo eh Rocky ma dov'è? è là ma gli hai fatto una coccola Rocky? si e alle due gliele hai fatto una coccola? ehi super wings chi è quello lì? dietro mi piace dietro ti piace dietro adesso? adesso che ti è arrivato Gerù ti piace dietro? si è l'amico di Gerù? è l'amico di Gerù? si ma arriva dietro? non lo so se arriva amore ma ma poi se non arriva gli diamo a Babbo Natale? si va bene che stai facendo? stai tocando quei tre vabbè salute dopo ci mette via tutto vero amore? ah? dopo li metti via tutti vero? grazie amore ehi adesso si fanno le ninne che dopo arrivano tutti e ti portano i regali ma solo se fai le ninne se no non viene nessuno ma i portano i regali ti portano i regali però adesso devi fare un po' di ninne bravissime ehi dai da bravo fare le ninne che dopo mi devi dare una mano che dobbiamo gonfiare tutti i palloncini va bene va bene bacio dammi un bacio dammi un bacio dammi un bacio ecco io tieni porta il piede aprilo 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 adesso arriva arriva papà ad aiutarti che manca? che manca? 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 bello è un libro apri apri guarda guarda si si non lo so guarda cosa c'è lì? non lo so guarda non lo so guarda non lo so guarda non lo so guarda tu che? che ne hai? ma ora ti dobbiamo dare una mano perché viene brutto col bimbo e anche non lo so guarda chi va via? ti aiuta nona? chi non può suonare? chi non può suonare? qua che ti aiuto c'è perché nona che ha bisogno di istruzione qua Ale eccolo salute è solo in serio? è cosa c'è fa? apri apri questo guarda cosa c'è dentro guarda niente guarda guarda guardare wow come sono interessato toscani toscanee eh adesso hai capito prima adesso ho capito come si fa il megainter bravo esatto tanti auguri ok ok tanti auguri a te tanti auguri tanti a tutti tanti a tutti fatta soffia 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 bravo bene faso bravo bene fa bene soffia pericolo bella ma soffia le pisse men dice a mamma che che hai soffia soffia! metta mia mano avanti e finirsi in pisse dovete metti davanti al vento soffia! 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 questo soffio che si è smorzabile fai la lingua di avede Ale fai la lingua di avede e fai un ciao anche Ale fai ciao ciao soffia! soffia! quanti anni compi? quanti anni compi? quanti? quanti compi? uno, due tre bravo adesso metti me lì tu ne ho tolto sai far tutto no era così per dir facciamola il dentino partite come se vi messe dai 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 Ale non è stima carina che è scritta Ale quel cosa è con il testo chiamali in bira imbira da andata e